L'acero saccareno è un albero, lo troviamo ovunque, sia in ambito urbano, sia in ambito privato, sia in ambito pubblico. È veramente resistente, è veramente veloce. Raggiunge grandi dimensioni, anche 15 metri, con una chioma espansa anche di 10-8 metri. Cerchiamo sempre di piantarla in un periodo fresco, quindi da settembre ad aprile, in modo che abbia tempo di radicare e di affrontare al meglio la siccità dell'estate. Si adatta sia a una posizione luminosa che a una posizione all'ombra. Si adatta a qualsiasi terreno, sia agilloso, calcareo, che di ristagno, che è umico. Quindi lo troviamo sia nelle zone di collina, che di pianura, in terreni di clivi, in terreni alluvionali, ovunque. Perché mai dovremmo scegliere un acero saccherino? Se vogliamo una pianta velocissima, una pianta che vi faccia ombra. Se vogliamo schermare qualcosa, se abbiamo bisogno di fare un viale importante, è la pianta che fa per voi, anche perché è una pianta molto ornamentale. Si chiama anche acero agentato perché è sul retro delle foglie, sul sotto, ha questa colorazione grigia che è molto ornamentale. E poi in autunno assume delle colorazioni veramente molto belle.